Il Signore sia con voi, e con il tuo spirito, al Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro, venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le reti. E li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre, e lo seguirono. Parola del Signore. Gloria a te, oh Signore. Saludato Gesù Cristo Oggi celebriamo la festa di Sant'Andrea, apostolo. Dopo aver dato inizio al suo ministero pubblico, Gesù cominciò a chiamare quelli che gli saranno compagni, apostoli. Andrea e Giovanni furono i primi apostoli a essere chiamati. Incoraggiati da San Giovanni Battista a seguire Gesù, che proprio in quel momento stava passando, i due si affrettarono a raggiungere il Signore. Gesù, vedendo che lo seguivano, disse, che cercate? Gli risposero, maestro, dove abiti? Disse loro, venite e vedrete. In realtà era un amabile invito a stare con lui. Quel giorno Gesù avrà parlato loro di cose mirabili, per cui i due si sentirono subito attratti della sua sapienza divina e restarono ormai per sempre legati alla sua persona. Uno dei due che lo avevano seguito era Andrea, fratello di Pietro. L'altro, Giovanni, molti anni dopo, ha potuto annotare nel suo Vangelo l'ora dell'incontro. Erano circa le quattro del pomeriggio. Ma il più dimenticherà la data di quel memorabile primo incontro con Gesù, che gli cambiò totalmente la vita. Accogliere la chiamata del Signore, essere accolto nella cerchia dei Suoi intimi, è la maggiore grazia che si possa ricevere in questo mondo. Il giorno felice e indimenticabile in cui percepiamo il chiaro invito del Maestro a seguirlo appare come un dono immeritato e perciò preziosissimo che dà significato alla vita e illumina il nostro avvenire. Venite e vedrete. Proprio nel rapporto diretto con il Signore, Andrea e Giovanni conobero per esperienza personale ciò che con le sole parole non avrebbero mai compreso del tutto. È nell'orazione personale, nell'intimità con Cristo, che sentiamo i Suoi continui inviti a seguirlo più da vicino. Domandiamoci, durante il giorno prestiamo ascolto attentamente alla Sua inconfondibile voce, rispondiamo davvero a quel che ci chiede, perché Gesù ci passa accanto e ci chiama. Egli continua a essere presente nel mondo, realmente presente da venti secoli, e cerca collaboratori che lo aiutino a salvare anime. Vale la pena di dire di sì a questa impresa divina. L'incontro con Gesù lasciò Andrea colmo di gioia, una felicità nuova e reentrata nella sua vita, sempre quasi che non possa trattenere tanta felicità e che era necessario comunicarla subito agli altri. Il primo che incontrò fu suo fratello Pietro, al quale riferì con entusiasmo della sua scoperta. Abbiamo trovato il Messia. Gli dice con tono tipico di chi è convinto, ottenendo da Pietro, di seguirlo, e lo condusse da Gesù. E questo è il nostro compito, condurre a Cristo, da Cristo, i nostri parenti, amici e conoscenti, parlando loro con convinzione persuasiva. Andrea, dicendo subito al fratello ciò che aveva saputo, mostra quanto gli volesse bene, come fosse affezionato ai suoi cari, quanto sinceramente li amasse, e come fosse premuroso di porgere loro la mano nel cammino spirituale. Forse non è, forse è da non pochi anni che Cristo ci è passato accanto, anzi, è entrato nella nostra vita. E come Andrea, anche noi dobbiamo, per grazia di Dio, abbiamo per grazia di Dio scoperto il Messia e il significato del suo messaggio. Ma è un messaggio da trasmettere anche agli altri. Il Signore spesso si serve dei vincoli del sangue o di amicizia per chiamare altre anime a seguirlo. Questi vincoli possono aprire la porta del cuore dei nostri parenti e amici a Gesù, che talvolta non può entrare a causa di pregiudizi, timori, ignoranze o pigrizia. L'amicizia con la grazia di Dio può essere il canale naturale per un apostolato veramente profondo. Qualche tempo dopo, mentre Gesù camminava lungo il mare di Galilea, vide Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare e disse loro «Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». Ed ecco, ed essi subito lasciato le reti, lo seguirono. E la chiamata definitiva per Andrea culmine del primo incontro con il Maestro. Andrea, come gli altri apostoli, rispose subito, con prontezza. San Gregorio Magno, commentando la chiamata definitiva degli apostoli e la generosità con cui questi pescatori risposero, distaccandosi da tutto ciò che possedevano, insegna che davanti a Gesù che passa non possiamo riservarci nulla. Pietro e Andrea lasciarono molto. Entrambi hanno rinunziato anche al desiderio di possedere. Il Signore ha bisogno di cuori puri e distaccati e ogni cristiano che segue Cristo deve vivere secondo la sua vocazione peculiare con questo spirito di donazione e di distacco. Non può esserci nella nostra vita nulla che non sia di Dio. Che cosa possiamo riservarci quando il Maestro è così vicino, quando lo vediamo e lo frequentiamo tutti i giorni? il distacco ci consentirà di accompagnare Gesù che procede con passo rapido e ci sarebbe impossibile seguirlo se fossimo carichi di troppe cose. Il passo di Dio è svelto e sarebbe triste che rimanessimo indietro per quattro cose da nulla. La Vergine Maria ci aiuti ad avere un cuore puro e distaccato come il suo che ci permetta di seguire Gesù con grande generosità e grande gioia. Sialo dato Gesù Cristo. Sempre Gesù Cristo.